Buongiorno a tutti, oggi è martedì 25 agosto e parliamo di analisi ciclica evoluta su TAX e FUTSINIB. Iniziamo da quest'ultimo. Da questo minimo può star partendo un nuovo settimanale piuttosto che un nuovo T1 per cui abbiamo avuto una spinta fortissima a rialzo che ha portato in Golden Cross l'indice stesso. E con il Golden Cross qualsiasi velleità di short è andata a farsi benedire, anche perché in questo momento abbiamo i future che sono a più 200 punti. Quindi non soltanto, come vi dicevo ieri, andava verificata la violazione a rialzo di determinati swing che sono stati violati che ci hanno detto, solo in termini di swing, che si andava a far iniziare un nuovo T settimanale. Ma avevamo bisogno anche del tempo e il tempo stiamo per averlo, nel senso che per ritornare sotto questo minimo ci va un miracolo o un flash crash, ok? Per cui da qui sta partendo sicuramente un T e lo stiamo vedendo anche a livello grafico perché dopo la candela che è un hammer stiamo avendo una prima candela verde. Oltretutto, di nuovo, stiamo tendendo ad arrivare il target per il movimento, sarà questo, 2543 euro, la media mobile a 50 periodi. Questo ci induce a osservare anche l'inverso, ovvero per quanto tempo si può salire. Se guardiamo soltanto l'indice sappiamo che per far partire un T più 1 bisettimanale basta un T meno 1 da 3 giorni rialzista, ovvero che non vada anche soltanto sotto questo minimo a 19480. Spazio ne abbiamo di inverso? Sì, ne abbiamo. Perché? Perché siamo arrivati soltanto a 8 giorni e è vero che qui può aver chiuso un settimanale inverso ma nella realtà si può arrivare a 11 giorni e quindi ci sono ben 3 giorni di salita ovvero i 4 giorni canonici di un T meno 1 per far partire un T più 1. Capito il discorso relativo a combinare inverso e indice serve per comprendere ancora meglio il tempo ciclico, è fondamentale. Per cui andiamo a vederci anche il DAX, stessa identica cosa su DAX anche se qui abbiamo avuto un raccordo, va confermata soltanto la cosa ma al superamento esattamente come su Fuzzimib del massimo a 13.104 che fa da swing assoluto avremo un nono T meno 3 inverso vincolato a ribasso, ovvero rialzo per l'indice e saremo soltanto a 14 candele da 15 minuti di rialzo e se avremo una conferma di partenza a più 93 punti effettivamente andremo ben oltre lo swing dato per cui non provate short in questo momento, anzi valutate long perché il tempo è dalla vostra. D'accordo? Occhio soltanto che qui, poccate ne possono fare, questo può essere appunto o un raccordo o la vera partenza del nono T meno 3 per cui contate sempre il tempo alternativo per evitare di prendervi degli schiaffi però anche in questo caso, Golden Cross è arrivato, boom, sparati su. Ok? Anche in questo caso, da qui io soltanto ho segnato per adesso prudentemente un T meno 1 perché abbiamo soltanto un T meno 3 rialzista, ma in realtà può partire sia un T settimanale che un B settimanale e lo vediamo direttamente anche da qui ok? Perché abbiamo che il T più 2, il mensile, però è arrivato a 17 giorni su minimo 24 quindi potrebbe anche soltanto fare un 3 tempi. Teniamo sempre d'occhio questo genere di cosa perché comunque da questo massimo è partito un T più 2 quindi attenzione, potremmo andare in chiusura di T più 2 e poi sparare di nuovo giù per la partenza di un altro T più 2 ma ricordiamoci sempre ok? Soprattutto per gli shortisti accaniti di questo periodo che devono fare attenzione perché è vero che ci deve essere una chiusura di T più 4 ma abbiamo una forte tendenza a rialzo ricordiamoci sempre che è tutto vincolato per un rialzo c'è una tendenza fortissima a rialzo per cui è corretto cercare lo short per la chiusura di un T più 4 ma eventualmente facciamo attenzione a non farci troppi castelli in aria d'accordo? Per il resto il mare qui è stupendo tra poco andrò in spiaggia vi auguro una splendida giornata perché ho già deciso che la mia sarà così arrivederci grazie grazie